Parliamo di banche perché purtroppo la notizia è che molti sportelli chiudono. È un ennesimo servizio che se ne va con grandi e piccole banche che decidono di chiudere le filiali dei territori lasciando il cerino in mano ai sindaci e agli amministratori che si ritrovano con le proteste anche giuste delle imprese, degli esercenti, dei cittadini, delle comunità che non hanno più un riferimento per cui perdono quel punto di erogazione di servizi insieme a molti altri. Diciamo di no a questa smobilitazione e chiediamo alla politica di intervenire. Perché sta accadendo questo? Qual è la speranza che possa accadere da qui a breve? È un effetto di una serie di scelte di banche che hanno ingenti utili ma che non capiscono quello che è il paese vero. L'Italia è un paese fatto di Alpi e Pennini, il 53% del territorio è montano e ha una serie di piccoli comuni, 3.800 comuni montani da cui non si può andare via perché non ti piace più stare o perché lo ritieni un costo. Marco Bussone, un'altra questione legata naturalmente ai territori montani e quelli della banda ultralarga che deve arrivare, che sta arrivando, canali anche televisivi che non si vedono, come è la situazione e quali sono i progetti in corso? In Italia esiste, in Piemonte in particolare esiste, un particolare divario digitale. Le città che vanno a una certa velocità di digitalizzazione di nuovi servizi per i cittadini e per le imprese e territori rurali e montani che rimangono ai noi indietro. Il paese sta investendo oltre 3 miliardi di euro sul piano per la banda ultralarga, quindi per portare fibra e connettività ad alta velocità nei territori, ma abbiamo anche un grave problema legato alla telefonia mobile e alla tv che non si vede. Pensiamo all'enorme bagaglio che viene messo in qualche modo in crisi legato alle tv locali come questa, come altre emittenti. Pensiamo al problema dei telefoni che non prendono e che chiediamo come territori, come rappresentanti istituzionali dei comuni, chiediamo allo Stato di metterci delle risorse e dare delle regole più chiare e più certe agli operatori. L'occasione è naturalmente anche quella di fare un punto della situazione dei territori montani, parliamo quindi naturalmente di turismo, ma non solo come sta andando la stagione. Tutto quello che abbiamo detto fin qui, quindi i servizi sono il motore dell'economia, servono posti di lavoro e servono servizi. Noi abbiamo una montagna che è sempre più attrattiva d'estate e d'inverno, sempre più attenzioni, posti di lavoro, alberghi che hanno una capacità di accoglienza sempre più alta, persone che scelgono la montagna, ma una stagione come questa, anche che ha fatto ultimi numeri, pensiamo a tante aree del Piemonte nell'inverno che non ha avuto così grandi precipitazioni nevose, ma che ha permesso una buona stagione, molti eventi, ebbè questa offerta che i territori offrono e l'accoglienza che viene garantita non può andare che di pari passo con un buon mantenimento dei servizi, con investimenti che le regioni, la regione Piemonte in particolare fa, lo Stato fa. La montagna vive se noi colmiamo tutte le difficoltà e proviamo a investire per dare prospettive a chi ci abita tutto l'anno e ai turisti che la scelgono nel weekend. Riportare maggiore attenzione sui territori montani, grazie dunque a Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. Grazie a voi, a Rete7, all'importante lavoro che qui si fa per garantire un'informazione che è fondamentale per la coesione dei nostri territori.